buonasera buonasera a tutti ciao a tutte e tutte come promesso sono luca calzolari direttore di montagne 360 il mensile del club alpino italiano come annunciato come promesso questa sera per una mezz'oretta 40 minuti chiacchiereremo del sentiero italia cai e lo faremo insieme a renato frignani che sentiero italia l'ha camminato tutto che invito a unirsi a noi ecco tra un momento buonasera renato ciao ciao buonasera a tutti ciao buonasera e oltre renato insieme a noi c'è anche antonio montani che è il vicepresidente del club alpino italiano che si occupa del sentiero italia ca in prima persona che coordina questo grande progetto ciao antonio sera bene allora incominciamo subito con renato e antonio ci eravamo lasciati in autunno inoltrato a creto in in liguria quando renato è arrivato lì col suo cane pulce col suo figlio pulce che lo ha accompagnato per la maggior parte del sentiero italia in una giornata virgola pioveva a dirotto ma noi eravamo comodamente seduti davanti una birra eravamo chiacchierato con renato che ci ha raccontato in quell'occasione il diciamola definiamo così la prima parte del del suo viaggio compreso quando poi ha trovato pulce e da lì e che il suo cane da lì è nato un'amicizia come dire ormai inossidabile e come dire sono è il suo sono fedeli compagni di avventura di camminata allora però partiamo proprio da qui dopo qualche giorno di sosta tu hai iniziato la seconda parte del del viaggio che è entrato diciamo entrando nel sulle alpi allora renato intanto raccontaci un po come è andata questa parte allora sì noi ci siamo trovati a credito in liguria stavo camminando sull'alta via di monti liguri e insieme al pulce a niente io ho proseguito sull'alta via nonostante comunque anche se fosse ottobre inoltrato novembre si si camminava bene lo stesso tempo era un po così incerto sono riuscito a mantenere a mantenermi sul sentire italia fino fino in piemonte nella zona di ormea di ozene e sono arrivato più o meno sulla zona di limone sopra limone quindi ero sulle sulle praticamente sugli alpi marittime il problema in tutto questo è stato che col ritrovamento di pulce mi si è allungato il viaggio tantissimo e sono arrivato in una stagione un po a rischio e cosa è successo che purtroppo ho dovuto momentaneamente abbandonare il sentire italia per questioni meteorologiche è arrivato un sacco di neve alcune parti erano impraticabili per cui invece ho deciso di continuare a camminare muovendomi su sentieri a quote un pelo più basse un pelo più accessibili sia per me che per il cane e per avere quindi hai dovuto fare una scelta precisa raccontaci il momento in cui hai deciso di abbandonare perché perché da quello che ho capito l'elemento pulce è stato un po l'elemento chiave di questa tua decisione di in realtà non tanto abbandonare un'idea di di camminare lungo lungo tutta l'italia ma di tenere quote più basse quel momento te lo ricorderai bene perché aveva detto e adesso sì sì no no mi ricordo bene e come ho detto avevo superato via zene ed ero salito in quota e ero passato vicino alla via avevo attraversato la via del sale ed ero arrivato nelle zone di piemonte alpi marittime ne ho fatto un pezzo e io quotidianamente comunque monitoravo e le previsioni meteo e mettevano da lì a qualche giorno forti nevicate anche a quote basse quindi mi sono fermato un attimo e ho detto scendo un attimo per capire come muovermi perché non voglio rimanerci in mezzo nel senso il cane per me era un vincolo nonostante grande compagno di viaggio sicuramente ma dovevo gestire una situazione abbastanza importante quindi questa previsione di maltempo mi ha fatto prendere la decisione di scendere ok di quota quindi da più o meno sono sceso verso entralacque se si dice così entralacque entracque 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 in piemonte e da lì sono andato avanti per sentieri più bassi sono stato ospitato da una famiglia e gli ho chiesto se per cortesia il giorno dopo mi portavano su una strada che si collegava al sentiero italia in quota mi hanno portato ed ero curioso di vedere com'era la situazione l'aul a 2.000 passametri siamo arrivati là e lui si è dovuto fermare perché le strade erano piedi di ghiaccio di meve quindi ho detto niente questo è il punto in cui devo prendere la decisione non voglio mollare assolutamente questo viaggio questo no non adesso ho detto beh non c'è problema lo continuerò a camminare ad andare avanti seguendo sentieri più bassi quindi mi sono appoggiato a alle sezioni cai di cuneo che erano ero in quelle zone lì e gli ho chiesto dove potevo passare per evitare neve per evitare per riuscire a avere punti tappa e da lì si è creata questa sorta di tantam di sezione in sezione paese per paese mi sono ricostruito un sentiero e dal piemonte sono mi sono arrivato fino fino alla valsusa poi dalla valsusa e ivrea sono arrivata a europa ok e da lì verso la lombardia quindi a quote più basse sono uscito andare avanti detto questo non è che è stato poi così semplice senso le domande facciamo un attimo un passo indietro mi ha ospitato una famiglia sì che ha visto arrivare col tuo zainone con pulce e che ti ha detto e tu cosa gli hai detto ah io mi hanno guardato cosa fai cosa fai adesso qua in giro a piedi gli ho raccontato un po la storia e niente non mi hanno chiamato dentro mi hanno offerto la cena mi hanno detto raccontaci un po di cosa stai facendo ma c'è freddo c'è ne hai sentito le previsioni c'è da domani a quota 800 mila ripresi della neve dove dove pensi di andare guarda ci sto ragionando sto pensando ma c'è anche un cane come fai qui e su e giù e mi fa guarda rimani qua e domani io sono a casa dal lavoro andiamo in per l'ustrazione con l'auto e ti faccio vedere dove tu dovresti dovrai poi passare e mi hanno accompagnato sono mi ricordo bene che valle era una valle abbastanza non me la ricordo probabilmente non mi ricordo che valle era quindi la gente era un po incuriosita questa cosa soprattutto per il periodo era un periodo un po anomalo per girare da soli per montagne in quel periodo insomma a freddo neve pioveva tutti i giorni però comunque tutto questo ho trovato un buon supporto anzi questo questa famiglia qua questo ragazzo una coppia molto giovane quando ho lasciato casa loro comunque nei giorni successivi mi chiamava mi diceva se hai bisogno quando sarai la dimmi che conosco delle persone che ti potranno dare una mano quindi è stata una sorta di anelli ok una catena che mi ha portato poi fino a lombardia e oltre in questa forse anche una caratteristica del viaggiare da soli no del cercare persone che si preoccupano tra virgolette ti aiutano si preoccupano per te perché magari se sei in gruppo forse questa dimensione si vive si vive un po un po di meno la pensi così anche tu oppure una mia illazione guarda solo vivi tutto al cento per cento ogni situazione che sia una bella emozione o un problema te lo devi risolvere in gruppo diciamo che la diluisci un po c'è chi tira che ti sollevi morale chi ha l'idea perché non facciamo così di tu magari non ci avevi pensato perché magari c'è stato quando sei da solo di fermare e capire qual è la situazione in cui sei e prendere decisione più più saggia anche io comunque da solo da solo solo magari ok ma con i cani dovevo pensare soprattutto a lui perché comunque lui non gli ha detto come va detto è un grandissimo cane magari non gliene fregava niente di camminare quindi a certo punto magari dice beh io mi fermo qua ti cammino un altro po poi non ne voglio più sapere tu cosa fai quindi ogni giorno era ponderato a modo quindi dovevo sapere più o meno dove andava e dove arrivare in visione anche che alle quattro del mezzo del pomeriggio non si vedeva più niente era più scuro e quindi insomma tanto aiuto sezione cai sezione cai insomma hai attraversato il piemonte raccontaci rapidamente poi mi hai detto ci diciamo prima di cominciare mentre facevamo un po di chiacchiere anche insieme ad antonio che poi si è arrivati in lombardia anche lì hai dovuto fare un'altra scelta di percorso in lombardia ecco lombardia l'ho ripreso in parte il sentire italia sentire italia delle varianti io ho preso quella ovviamente che stava un po più bassa di quota per evitare la neve e comunque sì ho sono stato mettere sul confine svizzero e poi ho preso quel sentiero che passa per il triangolo lariano arriva al bellaggio lì sono stato ho rispettato comunque il sentire italia e mi sono trovato benissimo ho camminato bene non ho avuto nessun tipo di problema a parte il freddo ecco e da lì dalla lombardia in poi sono entrati in valtellina e lì è stato un grandissimo punto di domanda per fortuna c'è stata una persona che mi ha dato una grazia sappiamo che lì ha incontrato una persona che conosciamo bene anche per per il cai molto attivo su grandi tematiche soprattutto quelle ambientali direi parliamo di chi ha incontrato in valtellina oscar oscar del barba di morbegno che appena ha sentito di questa che ero lì vicino alle zone di morbegno mi ha chiamato subito mi fa troviamoci facciamo una sorta di briefing per capire un attimo dove stai andando che cosa puoi fare e cercare di farti cadere da qui in avanti almeno fin dove lui poteva avere delle conoscenze per aiutarmi in modo che ogni giorno poteva avere un posto magari dove stare anche un rifugio ho dormito a edolo per esempio nella nella caserma del soccorso alpino a edolo e non mi ha dato una grande mano ma anche dopo il supporto di oscar del barba mi è arrivato fino a trento fino a trento quindi è stato un meno male perché io non so non so dove dove passare se io apro una mappa e vado però sai magari ti trovi in una stagione un po chiamiamola turisticamente morti in cui non trovi magari a volte di dei punti d'appoggio se non spostando di tanto avere qualcuno che conosce la zona è importante al di là di questo è stato un una piacevole conoscenza come tutte quelle che sono arrivate dopo quindi non mi sono mai sentito da solo ma da solo ma è sempre qualcuno comunque che mi hanno c'è stato quindi questo è molto fatto molto piacere tanto bene andiamo avanti proseguiamo in questo tuo viaggio così poi dopo magari iniziamo a chiacchierare anche un po con con antonio allora lombardia poi arrivi a trento e poi poi da trento da dentro preso la val sugana la val sugana volevo prendere c'è il sentire italia passa per il lago rai ma era impraticabile tra l'altro l'ho percorso una settimana fa e ho visto dove passa il sentire italia dai e facciamo una domanda su dove passa se hai preparato adesso adesso ci adesso sulla val sugana ho seguito le basse montagne tutto l'alto piano di valdobbiadine che mi è piaciuto tantissimo è stato veramente molto 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 bello molto panoramico anche perché da una parte vedi le sulla sulla sinistra vedi le dolomiti sulla destra vedi tutta la pian piano vedi la pianura che si stende molto molto bello e poi attraversato in veneto dopo sono entrato nel friuli e da lì dopo ci ci vi dà le ho preso il sentiero italia che segue praticamente tutta la zona del carso ok quindi un tratto un tratto di di sentire italia che percorribile in 8 8 giorni che ti porta poi a mugia quello l'ho percorso molto bene è stato molto interessante vedere sia uno se uno ama comunque la storia quello che è successo su quelle zone nella seconda guerra mondiale prima guerra mondiale ecco quelle sono state zone belle colpite era un bel un bel tratto da fare comunque sì dimmi pure prima di chiederti come hai festeggiato a mugia ma te lo chiedo dopo la quale è la tua impressione su tutti hai visto veramente una quantità di paesaggi non solo di panorama di paesaggi quindi di del rapporto dell'uomo con la montagna attraversando tutta l'italia innumerevoli perché la nostra la nostra il nostro paese a questo punto di vista è fantastico e meraviglioso ecco che cosa quali quali macro differenze o quali che cosa hai colto rispetto alla differenza del rispetto al rapporto dell'uomo con la montagna camminandoci vedendole naturalmente dalla dalla montagna e anche essendo più volte aiutato ospitato avendo conosciuto tante persone che ti hanno dato una mano che idea ti sei fatto di questo straordinario paese di montagna perché diciamo la verità il nostro un paese di montagne allora ho fatto una questa è una domanda che mi sono fatto anch'io è stata una riflessione personale sul nostro paese e con tutto quello che è successo in questo viaggio io l'ho vista ho visto l'italia in quattro stagioni di primavera estate autunno inverno la prima di questo viaggio non non conoscevo non conoscevo bene lì quest'italia l'italia vista così queste montagne questi luoghi un po nascosti non ne conoscevo quindi io so io come se fossi avesse fatto un viaggio in un luogo in un'altra nazione personalmente era tutto da scoprire la bellezza la quello che mi ha proprio impressionato è che nel ogni regione ogni zona chiamiamo la zona non nominiamo male le regioni però ogni zona è diversa dalle da tutto il resto ma anche l'arte per dire l'arte culinaria per dire il mangiare le le dialetti le persone come come costruiscono le case da dal centro italia al parte nord nord est nord ovest cioè è un paese così piccola che cambia cambia in continuazione man mano che cammini man mano che che segui il sentiero e cammini su giù per queste montagne noti sempre cose diverse ma era questa la cosa che bello qua guarda come costruiscono qua guarda come fanno qua è stato veramente una piccola un anno universitario di storia posso dire e di geografia ovviamente perché ho imparato dal punto di vista geografico nomi di montagne di parchi ho imparato a conoscere anche qualche albero nuovo ho imparato un sacco ho imparato li farei vorrei mi piacerebbe di farlo va bene adesso prima di passare la parola ad antonio vogliamo sapere come festeggiato quando sei arrivato a mugia cioè alla fine di questo lungo poi 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 anche barare non però noi siamo molto curiosi no no è stato un arrivo molto semplice non non avevo dato proprio una data di arrivo cioè non mi ero detto arriverò quel giorno lì mi impegno io ti arrivo quando arrivo un giorno due prima giusto l'ho detto qualcosa ai cai di trieste così dai ci troviamo ci incontriamo un attimo e facciamo due chiacchiere sono arrivato là tranquillo beato da cioè sono arrivato da solo come quando sono partito e questo è stato un po le il bello dire io sono arrivato alla fine poi ovviamente ho fatto due chiacchiere con quella stampa dei cai di trieste col presidente fra due chiacchiere poi si è presentata la mia compagna un mio amico che mi era venuto a fare due foto e dopo di che ho salutato ho salutato il mare di la località lazzaretto sono montato in macchina sono tornato a casa abbiamo fatto una festa in paese dove corregge in provincia di reggio emilia e li ha fatto festa l'arrivo se non è stato dei dei trionfali proprio tranquillo pacifico così con la malotta l'hai fatta corretto si va bene allora riprenderei un po quello che hai detto tu con per prima rispetto a quello che ha insegnato le diverse cose che ti e questo viaggio ti ha insegnato le diverse culture i paesaggi tanto tutte le cose che imparate perché il sentiero italia cai è sì grande sentiero è una grande proposta turistica ma è anche qualcosa molto di più è anche un grande laboratorio sociale o contenitore di esperienze e di progetti anche a sostegno delle montagne ecco e proprio su questi punti volevo chiedere ad antonio montani che lo ricordo è il vicepresidente del cai un po se ci racconta un po il dietro le quinte di questi progetti e quello che c'è stato e che bolle in pentola insomma su cui si sta lavorando lockdown a parte naturalmente anzi grazie anche al lockdown che ci ha impedito di lavorare abbiamo potuto dedicarci maggiormente a queste cose io voglio prima però ricordare quando vicino a verbagna ho visto renato forse era fine novembre prima di dicembre perché rispetto ad ora e anche rispetto a quando l'avevo visto in in liguria era veramente distrutto cioè io mi ricordo un renato che non ce la faceva proprio più e non so se ricordi renato quella sera che oltretutto pulce faceva un po la il matto dentro per casa non c'è neanche lasciato bere tranquillamente un bicchiere e il fatto di pensare che lui ha dovuto tra virgolette abbandonare il sentiero italia quindi di staccare nessuno debba pensare che si è fatto una passeggiata perché comunque insomma i chilometri sono tanti la strada è tanta e anche se si cammina a bassa quota comunque è sempre impegnativo è vero luca c'è tantissime tantissime cose che bollono in pentola nel senso che c'è tantissimo interesse su questo progetto del sentiero italia soprattutto perché come cai devo dire partendo dal presidente torti crediamo moltissimo e vogliamo investire moltissimo in questo progetto per non ripetere l'errore che è stato fatto negli anni 90 quando un grande entusiasmo aveva suscitato questa esperienza prima del sentiero italia del cammina italia e poi di fatto però non avendo investito continuamente in iniziative in progetti eccetera il sentiero italia non è che si sia perso ma è andato un po in letargo diciamo perché poi quando l'abbiamo ripreso in mano si si vede che si è visto subito che dormiva o covava sotto la cenere ma ma c'era ancora qualcosa di di vivo di attivo ricordo ricordo a piana degli albanesi l'anno scorso quando abbiamo fatto due o tre tappe in quelle zone dell'entroterro pariormitano come ancora sulla via principale di piana degli albanesi ci sono i cartelli con i turistici marroni con scritto sentiero italia ed erano lì dagli anni 90 erano lì ad aspettare noi erano lì ad aspettare chi come renato ha deciso poi di percorrere chi deciderà di percorrere adesso noi abbiamo fatto la nostra bella segnaletica uniforme abbiamo fatto e stiamo facendo per un modo diciamo anzi colgo l'occasione per ringraziare i tanti volontari che si prestano con entusiasmo a partecipare a questo progetto dicevamo tante tante iniziative tanti progetti sì tantissime abbiamo una su tutte ad esempio che è quella che proprio in questi giorni sta entrando nel vivo ha vinto un bando col Politecnico di Milano con il professor Pileri Politecnico ha messo 80 mila euro il CAI ha partecipato e copartecipa a questo progetto con 20 mila euro l'idea è quella di individuare una struttura esistente sul sentiero italia attivarla come punto di accoglienza per chi vuole percorrerlo e darla in gestione ma affiancare alla gestione partire fare proprio un lavoro di affiancamento a persone che appartengono a categorie disagiate e che dovranno ancora essere individuate con la collaborazione delle associazioni del posto eccetera per far capire che è proprio in questo tipo di turismo in questo tipo di approccio ai territori attento lento capace di vedere anche oltre il il paesaggio che passa dal finestrino ma capace di soffermarsi a riflettere e che è lì che possono nascere anche esperienze di socialità e quindi questo è una ma ne abbiamo moltissime questa cosa che dici sul molto interessante e in parte un po come dire si lega correggimi se se sbaglio naturalmente si lega un po a tutto quel filone che il cai porta avanti che è la montagna terapia no che una parte di queste esperienze rispetto ai te lo chiedo una mia curiosità rispetto a persone disagiate ci sono state esperienze per esempio di rifugi no che queste persone hanno gestito o co gestito probabilmente no rifugi per esempio un'esperienza della sat mi parla insomma quindi si può un po legare a questo filone oppure è una è una così è un filone che non regge sono un po un azzardo quello che ti sto chiedendo assolutamente noi vediamo che anche con le nostre sezioni sul discorso montagna terapia che per noi la montagna terapia è sostanzialmente accompagnamento di categoria con difficoltà in montagna le difficoltà possono essere più grandi dalle dipendenze ai problemi motori alle disabilità psichiche c'è una grandissimo giovamento da parte di queste persone che frequentano la montagna e devo dire c'è anche veramente un un piacere un benessere quindi in giovamento anche da chi ha nostri volontari che accompagnano insomma è veramente un intrecciarsi di esperienze e sul centro italia e siamo proprio in questi giorni elaborando andando nel dettaglio di un progetto con pietro scidurlo che è il presidente di free wills questa associazione che percorre individua i percorsi escursionistici praticabili con le carrozzine e non solo percorsi e anche strutture che possono accogliere noi stiamo appunto ipotizzando di fare dei corsi per i nostri volontari del cai che vengono istruiti per sapere come si fa come si opera perché a un certo punto noi il sentiero italia si differisce dagli altri cammini perché sta in ambiente naturale il più possibile in ambiente naturale e però in ambiente naturale sovente ci sono delle difficoltà a muoversi con una carrozzina e quindi noi stiamo facendo questo percorso insieme a pietro e alla sua associazione pietro tra l'altro una grande esperienza perché ha fatto adesso non so quante tappe ma vorrei dire tutte però non vorrei dire una stupidata del cammino di santiago ci ha scritto pure una guida appunto il cammino di santiago per tutti o in carrozzina e stiamo cercando di riprodurre questa questa esperienza sul sentiero italia sapendo che non potremo farlo su tutti i 7 mila chilometri però ci accontenteremo ci accontentiamo di individuare alcune tappe dove questo è fattibile segnalarle intervenire sulle strutture se le strutture hanno bisogno di adeguarsi incentivare gli adeguamenti e quindi anche da questo punto di vista c'è tutto un mondo che viene dietro i nostri volontari basta veramente chiamarli a raccolta e aderiscono i numeri incredibili ecco quindi se devo dire se riprendendo un po quello che è uno dei dei concetti culturali no che esprimiamo come club alpino italiano e che le montagne sono cerniere non barriere sono cerniere anche in questa chiave qui in quest'ottica qui volevo chiederti un'altra cosa antonio un grandissimo lavoro e durante questo periodo si si è fatto e si sta facendo sui punti accoglienza e un po l'hai già detto e l'altra e se magari vuoi specificare per l'amor del cielo l'altra cosa che mi viene in mente però che il sentiero italia è anche un po si è un un grande unico percorso però è un sentiero che si può vivere come dire presenta anche la possibilità di viverne alcuni tratti alcuni momenti magari uno a una settimana a disposizione via di seguito perché comunque ha una serie di particolarità ecco su questo possiamo fare è possibile fare un ragionamento dal dal tuo punto di vista visto che stai seguendo il progetto nel suo complesso innanzitutto sui punti accoglienza ci tengo a dire una cosa perché chiaramente il sentiero italia vivrà avrà più o meno successo negli anni in base a quanto chi lo percorrerà avrà accoglienza non questo non vuol dire che in tutte le tappe ci dovrà essere un rifugio un alberghetto io qualche qualche serie di tappe selvagge dove chi vuole farlo si deve portare la tenda e l'attrezzatura le vedo anche dentro cioè ci sta non tutti non tutti possono permettersi di fare come come renato di prendersi un anno sabbatico e percorrere tutto per cui è bello anche il poter dare la possibilità di scegliere che chi ha maggiore esigenza di comfort sceglie alcune tappe altre 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 quelle più selvagge però la presenza dei dei punti accoglienza è fondamentale e io credo che il ruolo del cai in questi anni che abbiamo davanti soprattutto nella parte centro meridionale d'italia sia un po il ruolo che ha avuto il cai fino 800 primi 900 sulle alpi dove non esistevano i rifugi dove l'accoglienza dei primi viaggiatori alpinisti era data dai pastori e da chi frequentava le le quote più alte noi il cai qui al nord attraverso le proprie sezioni ha infrastrutturato eh le alpi e ha consentito lo sviluppo del turismo alpino che poi ha portato molto di buono e anche qualche qualche certo diciamo così soprattutto nel nel dopoguerra anzi direi esclusivamente nel nel secondo dopoguerra quel quel ruolo di infrastrutturazione io credo che il cai lo debba avere lo possa avere anche nel meridione eh perché le i posti le montagne perché si tratta veramente di vere e proprie montagne Renato lo lo sa benissimo eh del del centro sud Italia meritano di essere meritano di essere frequentati sono ambiti non perché la quota è più bassa meno selvaggio assolutamente chi pensa questo sbaglia eh sono sono belli selvaggi e con una presenza culturale importantissima per cui è sicuramente è sicuramente un'esperienza fantastica nel discorso di sezionare eh ovvero di selezionare delle tappe eh quattro cinque che consentono in una settimana di avere un'esperienza eh è la cosa che abbiamo iniziato anche con Luca a a vedere da in questo periodo di lockdown cioè abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti per dire facciamo selezioniamo in ogni regione una proposta di di una settimana selezioniamo naturalmente cercando di proporre quelle più tra virgolette belle anche se in realtà non è bello fare classifiche eh facciamo queste proposte le promuoviamo stiamo lavorando con delle agenzie specializzate eh molto presto lanceremo i primi i primi pacchetti diciamo così eh dove può aderire chiunque possono aderire potranno aderire i soci del CAI con degli sconti potranno aderire le sezioni del CAI che vogliono organizzare un trekking quindi stiamo cercando di di preparare questa questa organizzazione per agevolare la fruizione bene io direi che insomma di carne al fuoco ce n'è ce n'è veramente tanta e prima Renato ti ho sentito dire ma mi piace ritornare poi forse anche ritornarci in qualche modo sul sentiero Italia ma hai qualche progetto nel cassetto o o sì 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 no nel cassetto sì 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 non avevamo dubbi sei partito così salutiamo il gatto di Antonio ciao gatto facciamolo vedere a pulce a pulce no niente dicevo che sì nel nel cassetto c'è un progetto eh non so quando quando e se potrò realizzarlo mi penserebbe ritornare sui luoghi che ho dove ho camminato su Sentire Italia eh non a piedi ma con una bicicletta ok quindi una modalità cicloturistica diciamo il mio punto interrogativo in questo momento al di là del tempo è come poterlo fare con i cane quindi mi dovrò attrezzare di un carrello o non so cosa ancora bene, devo un po' gestirla però l'idea di andare a rivedere i posti dove sono passato a piedi magari dormire anche negli stessi posti, andare a trovare le persone che magari mi hanno ospitato con le quali ho fatto delle chiacchiere magari una colazione, un pranzo, una cena sarebbe bellissimo mi piacerebbe tantissimo devo riuscire a mettere insieme poi i pezzi perché da solo è una cosa col cane e la compagna tutti in bicicletta è da organizzare ce l'abbiamo in mente quindi non ti fai trascinare la pulsa una slitta con pulsa che trascina e tu dietro magari a proposito di ruote biciclette però Antonio se non sbaglio anche come stiamo un po' pensando di verificare se il sentiero Italia tutto in parte si può percorrere si potrà percorrere anche in chiave cicloescursionistica lo ricordiamo che è una modalità sì con la mountain bike ma con tutta una serie di codici di rispetto naturalmente per l'ambiente certo per l'ambiente e per i sentieri in particolare cioè questa io tendo sempre a eliminare il conflitto tra chi mantiene i sentieri e chi va in bicicletta perché l'uso della bicicletta se è fatto con delle regole autoregole sicuramente consente di fruire di fare escursionismo da lì il ciclo escursionismo di fare escursionismo quindi con lo stesso spirito di attenzione di ricerca eccetera usando la bicicletta c'è il gruppo cicloescursionismo appunto della commissione centrale di escursionismo del CAI che sta diciamo così il coordinamento di Alessandro Federici sta appunto monitorando è in corso proprio in questi mesi da quando siamo ripartiti sta monitorando quali tappe del sentiero Italia possono essere frequentate con la bicicletta i dati che ci arrivano sono che dalla Liguria in giù il 90% delle tappe sono fruibili in bicicletta questo non vuol dire che sono tutte piste ciclabili perché i sentieri il ciclo escursionismo si fa anche in luoghi dove la bicicletta si prende a mano per altri tratti quindi voglio dire guarda poi riprendi tu ti confermo che c'è scritto Luca Bragina della sezione di Pesor che dice sì ci stiamo lavorando non è però del tutto percorribile poi specifica intendo in mountain bike grazie Luca ti ringraziamo insomma quindi questa è un'ulteriore conferma di quello che stai dicendo Antonio continuate anche qua la nostra idea è quella di quando arriveremo ad avere la ricognizione di incominciare a lanciare alcune tappe che sono ciclabili quindi metterci il bollino queste si possono fare ci sono tappe quando si arriva in Piemonte mi dicono gli amici il Piemonte il centro d'Italia va da valle a valle facendo i valichi per cui si sta studiando un percorso a pettine che consenta di scendere e risalire scendere e risalire insomma ci attrezzeremo però io credo che forse già da questa da quest'autunno per il centro sud per alcune regioni penso alla Puglia penso anche alla Calabria potremo già dare qualche via libera alla frequentazione insomma anche lì è un mondo che è in crescita e noi vorremmo che crescesse con la filosofia del CAI che è quella del rispetto rispetto per i pedoni rispetto per i sentieri rispetto per l'ambiente quindi sì assolutamente sì alle biciclette lo sottolineo dieci volte sapendo che ci sono delle resistenze anche all'interno del CAI però sì con rispetto questo è fondamentale di fatti poi c'è un come dire così come per il bidecalogo anche per il ciclo escursionismo il CAI su tutte le attività ci sa dei codici di autoregolamentazione perché questa è la nostra filosofia come dire la montagna va rispettata ma rispettati i pedoni nulla è di nostra proprietà tutto va rispettato le cose vanno fatte con grande con grande rispetto e passione e soprattutto a noi piace molto la trazione muscolare cioè le gambe sia per camminare che per che per pedalare e anche quando invece si arrampicano gambe e braccia e naturalmente sempre cervello in ogni attività che facciamo perché alla fine questo è quindi allora capito Renato potrei fare un po' un po' un po' per tu hai detto bici da turismo quindi noi già pensiamo che così adesso andrai un po' più sullo stadale ma conoscendoti temiamo che tu possa cambiare idea l'altra cosa secondo me molto bella del sentiero Italia è che consente di conoscere veramente le montagne diciamo del centro sud o sicuramente anche del sud sfruttando quelli che sono i mesi invernali perché per molti magari non hanno voglia o tempo o competenza anche di andare in quota nelle Alpi questo non vuol dire che nel sud non ci sia la né attenzione ricordiamoci sempre le nostre però ci sono sicuramente maggiori maggiori possibilità e soprattutto si può andare a conoscere territori e persone come dire meno conosciute e pensiamo anche che possa essere una grande risorsa per far conoscere le nostre montagne al di là delle Alpi anche al turismo straniero che sarà un altro degli obiettivi ai camminatori stranieri quindi io se voi siete d'accordo abbiamo fatto i nostri 40 minuti di chiacchiera magari potremmo darci sul sentiero Italia adesso mi riferisco in particolare ad Antonio ma anche a Renato potremmo pian piano incominciare magari a darci una serie di appuntamenti fissi per raccontare quello che sta accadendo perché un po' di novità ce ne sono anche per lavori che consentiranno idee che consentiranno presto a chi vorrà camminare di sapersi orientare ancora meglio sul sentiero Italia CAI non diciamo niente perché se no ci giochiamo un po' di sorpresa che la prima sarà fra forse una decina di giorni un po' meno verso fine di questo mese ma seguiteci su Facebook del sentiero Italia CAI su Facebook del CAI e sul sito del sentiero Italia CAI e vi terremo aggiornati su tutte le iniziative che si faranno sul sentiero Italia e naturalmente ci vieno a dire a tutti camminatelo camminate nella parte che vi sentite se avete la fortuna e la voglia di fare come Renato e anche altri fatelo tutto noi siamo solo contenti fatecelo sapere perché anche da quello che ci raccontate noi non solo contagiamo tutti insieme adesso dire contagiare questo periodo è una butta però diciamo portiamo entusiasmo per chiunque abbia voglia di camminare ma poi ce lo raccontate se potete dire per me è stato bello qui insomma e alla fine la nostra grande comunità di appassionati di montagna di Sochicaima e anche naturalmente a chiunque si vuole avvicinare alla montagna si apre come dire si allarga e come avete sentito la grande cosa meravigliosa è che le sezioni CAI i soci CAI ma anche le persone vedendo Renato Finiani e Pulce camminare da soli si sono chiesti forse chi è questo qui è un po' matto non è un po' matto comunque tutti gli hanno dato una mano e guardate che questa cosa è una caratteristica legata alla montagna perché come abbiamo sempre detto anche nel 2013 ti ricordi Antonio in occasione del centocinquantesimo della fondazione del CAI la montagna unisce ecco perché è cerniera e non barriera io direi di salutare Renato Fregnani grazie Renato ciao Renato Antonio Antonio Montani ciao a presto grazie a tutti a tutti voi saluto qualcuno che vedo Antonino Falcomattà Francesco Saliolla poi non riesco a vederli tutti perché è un po' lontano il computer da me Gian Battista Condorelli Bruno Livieri Salvatore Mulai insomma tutti quelli che ci stanno in questo momento seguendo un ciao a tutti loro alcuni sono amici li conosciamo e alla prossima ciao ciao a tutti ciao adesso la ciao a tutti